Siamo con una famiglia, in natura, qui al centro per l'impiazione dell'Imperia. Com'è andato il colore? Speriamo bene, speriamo bene. Adesso vediamo, ci manderanno qualche proposta e poi vediamo se ci sarà qualche risultato. Voi avete già esperienza in Germania, avete già vissuto in Germania? Si, avevo vissuto sei mesi ma tanto tempo fa ci era piaciuto tanto a quel tempo. E' probabile che questo ritorna via. Cosa mi piacerebbe fare? Adesso lavoriamo in hotel, quindi è probabile che continuiamo in questa direzione. Conosciamo un bel po' di lingue, quindi credo che questa è una direzione privilegiata per noi. Voi siete abitati all'imperio? Sì, noi siamo ucraini. Però io ormai da vent'anni sono ucraini. Adesso, ultimi due anni, viviamo con l'imperio. Come vi chiamate? Alessandro. Alessandro. Grazie. Grazie in bocca a Luca. то sono ore? Grazie a tutti. Ha! ning.